Recriminiamo per i primi 20 minuti, purtroppo siamo stati sfortunati che alla prima palla abbiamo preso gol. Dovevamo continuare a stare tranquilli, a fare la nostra partita perché c'era ancora tanto tempo da giocare. Poi abbiamo sbagliato un'uscita sull'esterno, bravi loro a entrare in aria, appoggiare questa palla dietro e abbiamo preso il secondo toro. Penso che poi la squadra ha reagito e abbiamo cercato anche il gol subito nel primo tempo con l'occasione di schiena. Poi purtroppo non ci siamo riusciti, nel secondo tempo gli spogliatori ci siamo detti che dovevamo credere, ci dovevamo continuare. Dovevamo continuare a spingere cercando di andare a giocare uomo contro uomo nella loro metà campo, cercando anche di rischiare qualcosina in più. Onestamente sono orgoglioso della prestazione che hanno fatto i ragazzi. Sì, abbiamo rischiato poco per quanto riguarda le occasioni, ma penso che siamo andati a giocare alti, cercando di tenerli nella loro metà campo, non dargli spazi. Penso che in quelle occasioni abbiamo rischiato tanto sotto sotto un tripista, ma i ragazzi sono stati bravissimi, hanno concesso pochi spazi. Peccato per le occasioni di Colombatti e di Ivan, dove penso che potevamo parigiare la partita. Poi l'ultima occasione, fretta, dove loro hanno preso il palo, non la teno in considerazione, perché lì la fretta, la voglia di andare avanti. Abbiamo concesso un'occasione del genere, ma lì ormai le distanze erano troppo larghe. Però penso che al secondo tempo ci abbiamo messo tanto. Ripeto, sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi, perché seppur in un campo così difficile, hanno sempre cercato di giocarsela e di andare in avanti. Il playoff per noi era un'occasione, un obiettivo che onestamente è nato nelle ultime settimane, perché penso che abbiamo fatto abbastanza bene. Stavamo lì, perché non credici? I ragazzi ci tenevano tanto a questa cosa. Io sono ambizioso, così come lo sono loro, perché non credici? Avevamo queste due occasioni, seppur in trasferta, però di andarci a giocare questi due scontri diretti, diciamo, per quanto riguarda i playoff. Perché non giocarsela? Purtroppo penso che non abbiamo raccolto in queste due partite quello che abbiamo seminato. Grazie.